Dopo quasi cinque anni di chiusura, riapre in Via Romana a Firenze il Museo della Specola, una delle eccellenze del sistema museale dell'Università di Firenze, che si presenta al pubblico dopo un imponente intervento di riqualificazione che ha riguardato in totale 2280 metri quadri ed è stato realizzato con il contributo della Regione Toscana per 3,5 milioni di euro e dell'Ateneo per un importo di circa 2,5 milioni di euro. Il museo riaprirà le sue porte per quattro giornate a ingresso gratuito che sono già sold out dal 22 al 25 febbraio. La riapertura vuole festeggiare sia i 250 anni dalla fondazione della Specola che i 100 anni dell'Ateneo Fiorentino. Finalmente dopo tanti anni riapre la Specola un museo, diciamolo, così bello, così importante per Firenze. Sì, ha ragione, è un momento di festa che noi vogliamo condividere con la città, tant'è che abbiamo pensato di dedicare i primi giorni ai fiorentini che volessero tornare o venire per la prima volta a visitarlo. Io ho sempre in mente quella lunghissima coda che si snodava per tutta Piazza Pitti il 31 di agosto del 2019 quando era l'ultimo giorno per salutare la Specola. Ecco, noi adesso ci risiamo, la riapriamo con molta gioia e la offriamo per questa fruizione di questo museo antico e modernissimo. Inaugurato come Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale per volere del Granduca Pietro Leopoldo il 21 febbraio 1775, la Specola è il primo esempio di museo scientifico che voleva unire natura, ingegno umano e arte in un intreccio godibile da tutti senza limitazioni di provenienza, di genere o di ceto. Abbiamo cercato di recuperare nei nuovi allestimenti anche quell'idea che Pietro Leopoldo aveva e che risulta modernissima, cioè di un museo accessibile, fruibile a tutti indipendentemente dal proprio livello di cultura e di conoscenza delle cose. Io credo veramente che a Pietro Leopoldo si debbano tanti riconoscimenti, non solo la voluzione della pena di morte come è nota a tutti ma anche questa idea di una cultura che deve rendere felici le persone e di una fruibilità a tutti i livelli. Io credo che abbia anticipato di 250 anni la convenzione di Faro e il concetto moderno di museo. 13 le nuove sale espositive per 700 metri quadri complessivi dove trovano ospitalità ai nuovi percorsi dedicati agli inizi della ceroplastica, alle cere botaniche e alla mineralogia che affiancano le collezioni della zoologia e le preziose cere anatomiche di fama internazionale, il Salone degli Scheletri con l'elefante asiatico, la Tribuna di Galileo e il torrino astronomico che ospitava l'osservatorio a cui la specola deve il nome. Una raccolta di meraviglie per un museo che doveva rappresentare ogni aspetto della natura, dalla terra al cielo. Le nuove allestimenti sono stati realizzati al primo e al secondo piano. Al primo piano sono state riportate in delle bellissime sale che sono state riallestite completamente le collezioni di mineralogia che dal 1881 erano state trasferite anche per mancanza di spazi nei locali di via Lapira a San Marco dove sono rimasti quasi 150 anni. Al secondo piano, dove ci sono le famosissime cere anatomiche note in tutto il mondo, abbiamo aggiunto un percorso per spiegare al visitatore come nasce, come si sviluppa la ceroplastica fiorentina dai primordi fino a tutta la grande scuola ottocentesca. In questo percorso abbiamo inserito oltre alle tradizionali alcune cere anatomiche che ci servivano per illustrare il percorso, anche le straordinarie cere botaniche. Ci sarà un giardino in cera che ammirerete con oltre 200 piante in cera che sono state allestite e vi sfido a distinguere dagli originali, quindi verrebbe da innaffiarle, come ho detto a qualcuno, qualcuno voleva veramente innaffiarle in qualche contesto.